Una vittoria importante nei confronti dello Stato e quindi della protezione civile che ha sbagliato e che è stato condannato. Così il medico chirurgo aquilano Vincenzo Vittorini, che la notte del terremoto perse la moglie Claudia e la figlia Fabrizia, commenta la sentenza di assoluzione per i membri della Commissione Grandi Rischi, tranne che per uno. Vittorini, anche consigliere comunale con il gruppo civico Appello per l'Aquila che vogliamo, punta l'attenzione sulla condanna della Cassazione di Bernardo De Bernardinis a due anni di reclusione. Non un pincopallo qualunque, rincara Vittorini, ma l'ex vice capo della protezione civile che rassicurò ingiustificatamente la popolazione aquilana pochi giorni prima del terremoto che devastò l'Aquila. C'è la conferma che non eravamo dei visionari, ma c'è il fatto che ad Aquila ormai è una pera miliare, ad Aquila lo Stato ha sbagliato, lo Stato ha rassicurato, lo Stato è causa delle morti. Si continua a portare avanti un'operazione mediatica cominciata prima del terremoto, proprio con la riunione della Commissione Grandi Rischi all'Aquila per difendere lo Stato in tutti i modi possibili, dice ancora Vittorini. Se la Commissione Grandi Rischi nelle figure dei suoi scienziati che rassicurarono la popolazione aquilana oggi ha ricevuto l'assoluzione con un escamotage, secondo Vittorini, vuol dire che non ha ragione di esistere come organo scientifico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che in quei giorni allora quale ruolo aveva? Si chiede ancora Vittorini. Cosa vennero a fare all'Aquila? Da tutte le parti oggi si titola assolta la Commissione Grandi Rischi, no, assolta la XXXX perché è stato acclarato che non era la Commissione Grandi Rischi, secondo i giudici. Rammaricato per le parti civili che sono state tirate fuori dal processo, Vittorini è pronto a continuare la sua battaglia verso la verità e riferimento al processo satellite Grandi Rischi bis rinviato al 4 marzo del nuovo anno, che si chiami processo a Guido Bertolaso, puntualizza Vittorini. L'ex numero uno del Dipartimento di Protezione Civile è chiamato a rispondere della telefonata intercettata e poi finita alla ribalta delle cronache con l'allora assessore regionale alla protezione civile Daniela Stati, in cui Bertolaso parlava di operazione mediatica perché, disse, vogliamo rassicurare la gente. Nello stesso giorno in cui c'è la condanna dello Stato e della protezione civile inizia il processo a Guido Bertolaso, che è il mandante dell'operazione mediatica e delle morti. Quindi la battaglia continua ed è una battaglia che si fa per verità e giustizia non per le singole parti civili, ma per le 309 morti.